ciao a tutti benvenuti in un nuovo video ebbene sì questa volta abbiamo il presidente degli stati uniti che twitta di bitcoin ma come sempre prima cartello investi responsabilmente e a tuo rischio fino a qualche tempo fa poteva sembrare un qualcosa di impensabile però effettivamente l'11 luglio abbiamo il primo tweet di un presidente americano quindi del più potente paese del mondo che parla di bitcoin non ne parla bene però questo tweet è interessante anche nell'ottica del prezzo per vedere se effettivamente ha influenzato il prezzo di bitcoin in questo tweet appunto parla del fatto che lui non è un fan di bitcoin e delle criptovalute dice che non sono soldi perché appunto vengono stampati dal nulla e non c'è niente come sottostante queste appunto sono verosimilmente le sue parole che potete vedere nel tweet che vi lascio in descrizione e poi è interessante vedere tutta la la discussione che questo tweet ha scaturito tra l'altro lui anche contrario a libra come come criptovaluta però tutti questi tweet faranno interessare le persone a bitcoin e appunto sicuramente apriranno un dibattito su questo tipo di tecnologie e ovviamente lui dice che l'unica vera valuta è il dollaro degli stati uniti quindi come è quasi ovvio che sia poi vabbè ci sono stati tanti commenti e una cosa interessante è che dopo questo tweet se poi si va a vedere effettivamente l'andamento del grafico di bitcoin come vedete si è quasi ripreso quindi è una cosa abbastanza curiosa probabilmente le persone hanno interpretato questo tweet come comunque un interessamento da parte della politica tradizionale verso questi temi e un altro argomento che vi volevo portare appunto da valutare è questo si si sente parlare appunto di libra la la criptovaluta di facebook e in vari articoli che che si possono leggere su internet uno dei motivi di fare appunto questa libra dal punto lista di facebook perché dovrebbe inventarsi una nuova valuta e se andiamo a vedere quello che già sta facendo google magari in qualche aggiornamento dei termini di servizio che non vi siete accorti google già adesso va a leggere le vostre email e inizia a catalogarle per diverse motivazioni una potrebbe essere appunto gli eventi che andate a segnarvi su su event bright altre email che ricevete potrebbero essere delle conferme di acquisti su paypal o altri tipi di acquisti con con carti di credito su amazon e cose di questo tipo e essendo che molti utilizzano i servizi di google per esempio gmail per tenere traccia di queste informazioni google ha ben pensato di catalogare queste informazioni per offrirci un qualche tipo di servizio migliore di fatto queste informazioni facebook non può farle perché non gestisce l'email degli utenti e se voi appunto andate su myaccount.google.com e cliccate su pagamenti e abbonamenti con l'email che utilizzate per fare gli acquisti online vi ritroverete una situazione di questo tipo nel senso che google ha analizzato tutte le vostre email che hanno a che fare con degli acquisti online e quindi dice tutti gli acquisti effettuati tramite ricerca maps e assistente così come le conferme d'ordine di gmail in realtà sarebbero le conferme d'ordine dei vari siti vengono gestiti in modo da aiutarti nelle tue attività ad esempio tenere traccia di una spedizione ordinare di nuovo cibo i dati di gmail non vengono utilizzati per gli annunci questo è quello che viene dichiarato di fatto qualsiasi cosa che acquistate con una descrizione anche abbastanza dettagliata viene catalogata per sempre nei server di google e queste qui appunto non sono informazioni che ha facebook perché su facebook voi potete comprare la pubblicità promuovere il vostro e-commerce di fatto facebook non ha la piena garanzia di quello che avete acquistato anche se l'avete visto su facebook e libra attraverso il proprio wallet calibra può essere un modo per ricreare lo stesso tipo di informazioni quindi anche facebook è interessato a sapere che cosa avete acquistato quanto l'avete pagata dove ve lo siete fatto spedire quando l'avete acquistata e cose di questo tipo nel caso di google queste informazioni possono essere eliminate diciamo post però di fatto se non avete fatto cose particolari vi ritroverete appunto questa lista dettagliata di tutti gli acquisti che avete fatto ovviamente questa non è una blockchain però il vero motivo per il quale c'è molto interesse nel tenere traccia di questo tipo di informazione è perché poi queste informazioni potrebbero essere magari non rivendute direttamente ma si potrebbero aprire degli spazi pubblicitari per nuove aziende che vogliono magari far vedere la propria pubblicità su persone che hanno già acquistato una certa tipologia di prodotto e che dire questa cosa secondo me è il vero valore è il vero motivo per il quale un'azienda vorrebbe fare una propria criptovaluta propria oppure di consorzio perché appunto tutti questi dati messi insieme permettono appunto di profilare ancora meglio l'utente perché un conto è un utente che mette mi piace su un certo prodotto un conto è un utente che lo compra e un altro conto è un utente che lo compra anche con una frequenza abbastanza elevata che dire come sempre lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale se non siete iscritti vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti